Buonasera, siamo con Antonio Tilocca, il presidente della Sfirs, la finanziaria regionale della Sardegna, al quale chiediamo, prima della sua partecipazione alla terza via, quali siano i movimenti che la finanziaria sta facendo per lo studio e l'utilizzo dei nuovi strumenti finanziari di cui l'economia regionale ha tanto bisogno. Buonasera a tutti, in questo momento la finanziaria regionale sta proseguendo un cammino iniziato già da tempo che è quello degli strumenti di ingegneria finanziaria, all'interno dei quali gioca un ruolo molto importante il fondo di garanzia. Il fondo di garanzia è una cosa bellissima perché lo possiamo scomporre e ricomporre come vogliamo all'interno di tutti gli strumenti finanziari. Prova ne è il fatto che adesso stiamo lavorando su uno strumento che era già previsto dal decreto di competitività di qualche anno fa che sono i mini bond e le cambiali finanziarie. Col fondo di garanzia andiamo a garantire praticamente queste missioni che vengono effettuati a favore di aziende Sardegna che hanno la possibilità così di operare su mercati non bancari, quindi su mercati non tradizionali. Quindi fare provvista dai 500 mila euro in su con investitori istituzionali su un mercato particolare, nel nostro caso l'ExtraMod Pro. Al di là di queste cose, quello che volevo dire è che poi utilizziamo il fondo di garanzia per tutta un'altra serie di strumenti più tradizionali che possono essere le garanzie sui leasing, sugli affidamenti in conto corrente, sullo sconto di effetti commerciali, sui mutui eccetera. Quindi il concetto che passa è che il fondo di garanzia può essere utilizzato per garantire, per rendere più sicuro, per far stare più tranquillo il soggetto che in qualche modo accetta che questo suo credito venga anticipato o intermediato in una forma qualsiasi. E qui Roberto sorride perché ha già capito dove voglio andare a parare. Quindi se noi domani decidessero in qualche modo, meglio se l'amministrazione regionale, perché poi la finanzia regionale fa quello che decide l'amministrazione regionale, decidesse di sposare un pezzo del circuito Sardex, una parte, tutto, o in un settore particolare, e volesse dire agli operatori guardate che se lavorate con il circuito Sardex siete tranquilli, noi potremmo provare a montare, magari ci riusciremo, una garanzia su questo circuito e quindi dare un'ulteriore tranquillità a tutti coloro i quali vorranno utilizzarlo. Benissimo. Un'altra cosa. Le imprese Sarde, come stanno rispondendo? E a tuo parere come potrebbero rispondere a queste sollecitazioni? Le imprese Sarde, prima di tutto, hanno bisogno del piatto primario, visto che siamo quasi a l'ora di cena. Il piatto primario è l'economia e lo sviluppo. Poi la finanza, chiaramente, è qualcosa che serve per accelerare questo piatto e per velocizzare le transazioni, come tu ben sai. Come stanno rispondendo? Molto bene. Le imprese Sarde hanno molto bisogno di credito, le banche, dobbiamo dirlo, in molti casi stanno disintermediando, perché è normale che gli istituti bancari siano molto pronti a dare credito, a concedere credito a chi ha i rating alti, a chi ha i rating buoni, molto di meno a chi questi rating ce li ha meno buoni. Allora, a questo punto, devono entrare in campo tutta una serie di strumenti che fanno riferimento a dei concetti fondamentali, che sono quelli di collettività, laddove queste imprese, seppur con rating inferiori, hanno dei diritti, hanno delle legittime aspirazioni, perché comunque i fondamentali sono buoni, noi dobbiamo intervenire e sottenerle. Nel notare questa tensione alla controciclicità della finanziaria regionale, ringraziamo il dottor Tilocca di questo intervento. Grazie a voi per quello che state facendo.